Allora, non posso prevedere gli scenari prossimi e futuri del draft, perché dobbiamo viverlo e possono cambiare veramente tutto, ma devo fare questo applauso a Triple H. Dopo Vresta e Almenia a me sembra che siano partiti col piede giusto. Chiaramente qui devo darvi degli spoiler se seguite la WWE su D-Max, però ci sono tante storie già in corso o altre abbozzate che mi stanno facendo pensare. Liv Morgan con Rhea Ripley, in attesa di capire se Rhea Ripley dovrà rendere vacante la cintura per infortunio, ma anche il cambiamento morale di Candice LeRae con Andy Hartwell che non sa come schierarsi. Drew McIntyre, tormentato da CM Punk, sembra una scena da film dell'orrore, da Shining. Anche questa è una storia in divenire. Gli sconvolgimenti all'interno della Bloodline, che forse ha un nuovo capo tribù, che si è arricchita con un nuovo membro. Questa è una bella storia. Ellen Hight contro i G-Styles che prosegue, magari questa prende un po' di meno, però sono sempre due tizi ai ferri corti. Il sospetto che Dragon Lee sia stato infortunato da Carlito o da qualcun altro. Ebbè, ci sono tante cose, possiamo andare avanti ancora. Naomi, che sul campo diventa prima sfidante, con Bely che deve in qualche modo ora iniziare il suo regno e dare concretezza alla vittoria di Vrestalmenia. Cioè, le storie sono tante. Quindi, se l'era di Triple H, che io critico per altri motivi, ma se l'era di Triple H mi dà tutte queste storie e me le porta avanti in maniera giusta, coerente, a me va benissimo. E probabilmente quasi tutti questi scenari di cui ho parlato verranno confermati dal draft. Non credo che separeranno le varie coppie per ripartire da zero e fare tabula rasa di quanto ci stanno dicendo. Pensate anche al Judgment Day, no? Alle cose interne a questo gruppo, a Damien Priest, che ora deve dimostrare sul campo che è un campione vero e non di transizione. Quindi non riesco a capire bene cosa ci sarà dopo il draft, perché i roster si devono ancora formare. Però si parte bene. Io sono uno che critica tanto quando secondo me c'è da picchiare il pugno e sapete quali sono le mie tipologie di critiche, qual è la mia filosofia, però quando uno fa bene bisogna anche avere, tra virgolette, il coraggio di dire beh, sono contento.